La prima parte sarà un SFR, quindi ci scalderemo in 5 minuti e faremo solo 4 SFR Da 4 minuti con 2 minuti di recupero Eh? Sono troppi 2 minuti? Ma no! Le pedalate nell'SFR saranno 60 Quindi semplice semplice Anche veloce Indolore Eh? Iniziamo a scaldarci 4 minuti di riscaldamento Qua Se no non ci stanno E la seconda parte te la dico dopo Non essere curioso 100 le pedalate al minuto Iniziate a regolare resistenza Le 4 SFR cercheremo di farle all'85% della frequenza cardiaca massima Quindi fatica da 1-10-8,5% Luizanna Fatica a 1-10-8,5% Aronne Fatica No! Dopo! Bravo! Alessandro Alessandro Fatica Fatica Bene Quattro Tre Due Uno Aggiungo un briciolo poca poca Ricordatevi che dopo si parte subito subito eh Il Mauri è senza cuore oggi mi sa Sta segnando gli appuntamenti Ah sta segnando gli appuntamenti Ah sta segnando gli appuntamenti Aggiungiamo ancora un briciolo di resistenza Pedanate 80 minuto finiamo il riscaldamento E salgo su Leggeri, leggeri Ok ritorno giù Quattro Tre Due Uno Su Quattro Tre Due Uno Giù Quattro Tre Due Uno Giù Ok Si parte Chiudo Obiettivo 60 Pedalate al minuto 85% La prima non ce la faremo Ma non importa Noi che Beh Le persone che hanno il cardio che funziona Magari non ce la fanno Chi ha il cardio che non funziona invece ci arriva subito 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 Chiudo Aggiungo resistenza Tempissima Forza sui pedali Aggiungi Luisa Anna aggiungi aggiungi Abbiamo quattro minuti per raggiungere l'ottanta l'ottantacinque per cento per arrivare in zona quattro Quattro Atenzione al ritmo Regolata la resistenza Regolata la resistenza Se è poca Tira e spingo Sempre Non ci si alza Rimaniamo qua seduti Un attimo Quattro La città Poco più di un minuto E poi si apre Oh ma dove sei? 81 battiti, sì è vero Immaginavo No ma Massimo non gli funziona il cardio 20 secondi 10 10 Ok tolgo Mantengo le 60 pedalate al minuto Con meno resistenza Due minuti, si recupera e su 3 Leggeri, leggeri Come va? Benissimo Massimo Dopo ne avrai di più Leggeri, leggeri Lasciamo scendere la frequenza cardiaca Recuperiamo fiato E gambe Il piede ruffiato L'ha già recuperato tutto E' lì che chiacchiera Pronti per affrontare la seconda? Sì Poco più di una passeggiata 20 secondi 4 3 2 1 Scendo Ci siamo E Chiudo Tanto 4 4 minuti 4 minuti Forza sui pedali Tantissima 60 le pedalate al minuto Obiettivo 85% Zona 4 Ricordatevi sempre una bella pedalata Fatti salire la frequenza cardiaca Fatti salire la frequenza cardiaca Mantengo Se vedete che Dopo i primi minuti Riuscite ad aggiungere un po' Aggiungete Non aspettate che sia io dirlo Guardate il vostro cardio Sentite la vostra fatica Tipo aronne Fatica da 1 a 10 Adesso Quasi 8 e mezzo Va bene Come A chi devo chiederlo? Perché so già che l'omare è già 8 e mezzo Anche 9 Magari anche a 10 Magari anche a 10 Dai dai 1 minuto e 20 Mi concentro sulla pedalata Mantengo il ritmo 20 secondi ancora 20 secondi ancora Ok Tongo Asciugo il sudore Bevo Come va? Benissimo 4 3 2 1 Walk Leggeri Leggeri Solo per recuperare 2 le abbiamo fatte Ne mancano solo 2 3 1 1 1 2 2 3 3 5 6 5 6 7 7 8 8 9 9 9 10 10 9 10 10 11 11 12 12 13 11 13 13 15 15 15 15 15 15 16 16 Ci siamo quasi pronti per la terza Chiudo Chiudo E chiudo ancora Perché adesso siamo caldi Ora la frequenza cardiaca salirà più facilmente Quindi possiamo anche esagerare Bravo Piero esagera Tre minuti Ricordatevi di tira e spingo Cambia musica ma non cambia il ritmo Sempre 60 pedalate al minuto Sempre zona 4 Sempre piattone Rilassate le spalle Rilassate le braccia Forza sui pedali Tanta Volete aggiungere un goccio di resistenza? Che dite? Piero Cosa dici? Aggiungati Poca Non credo Forza Un minuto Non si molla 20 secondi 20 secondi Alessandro Alessandro Alla dietro Tutto bene? Colgo E Recupero Ciao Ciao Livan non recupera Visto Stefania? Ha deciso di eliminare i recuperi Ha ragione, la prossima stagione li tolgo anch'io Eh, che dici? E beh, sì, però Ah, sta fingendo allora? Ah, hai capito? Ci siamo quasi Non vi ho fatto alzare, ci alziamo 30 secondi Tanto per sciogliere un po' le gambe Poco a poco 20 secondi e poi c'è l'ultima Ok, mi siedo e ho tutto Chiudo L'ultima 60 Pedalata al minuto Zona 4 Antonella Chiudi, chiudi, chiudi Brava Concentratevi Chiedo Pedala Se chiacchierai così, secondo me puoi chiudere ancora tanto E' l'ultima E' l'ultima E' l'ultima Bene, è tutto Sì 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 Non si rallenta Non si molla Due minuti Poco meno Continuo Continuo è diminuita la velocità dobbiamo aggiungere resistenza ancora un minuto e un minuto è basta sempre zona 5 ma le pedalate sono 55 quindi si deve chiudere di più 20 secondi 3 lasciamo andare le gambe recuperiamo vediamo ci diamo il sudore però è impegnato nella distribuzione delle caramelle 30 minuti alterneremo le velocità faremo lo switcher alterneremo le 90 pedalate al minuto alle 60 pedalate al minuto no grazie 10 minuti e 10 minuti lavoreremo sempre in zona aerobica quindi tra il 79 e il 90% vedete voi quanta fatica a fare gli uomini verso il 90 e le donne vedete voi come preferite no oltre il 90% mi accontento di un 85 un 86 un 87 l'omar 90 avremo come sempre 5 minuti di riscaldamento e poi subito subito si parte la Laura mi piace perché con gli occhiali mi ricorda le manifestazioni estive dovremmo metterli tutti che così ci ricordano l'estate le manifestazioni sotto il sole piano piano prendiamo la velocità pedalate 110 al minuto ci scaldiamo velocissimi velocissimi ci siamo quasi allora l'alessandro lo vedo ma malgrado volesse nascondersi lo vedo la Luisanna anche non vedo chi è lì di fianco la Luisanna si ci vediamo se ti metti su così anche l'ivan lo vedo poco vedo solo un piede e poi gli altri tutti davanti benissimo ci siamo già siamo in zona 3 come no io ho fatto solo 2 minuti e mezzo ma voi ne avete fatto 5 vabbè aggiungiamo resistenza allora invece di passare dalla zona 3 alla zona 4 transiteremo molto velocemente per raggiungere la 4 subito subito 90 avete pedalato al minuto 10 minuti mi raccomando attenzione al ritmo cercate di lavorare con entrambe le gambe 5 6 7 salgo su e rientro giù alziamo alziamo e basso non sentite la musica non sentite la musica volete alzare un goccino poco 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 sempre i 90 le pedalato al minuto ricordatevi ricordatevi che le pedalate sono 90 al minuto ma dobbiamo arrivare in zona 4 non è una scampagnata rimaniamo in sella concentriamoci sulla velocità dove vanno a maria angela 4 3 2 1 aggiungo un bricciolo inizia subito a far caldo non rallento non rallento donato dove sei zona 4 bravo guarda come sono invidiosi mi sa che qui non è nessuno l'84% pian piano la frequenza cardiaca dovrebbe arrivare in zona 4 e stabilizzarci quando si stabilizza magari inizia a scendere un bricciolino e noi chiudiamo ancora poco poco 4 3 2 1 so walk laura tutto bene sì e giù forse i pedali vai guarda 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 Mante Donato Cosa stai facendo? Come recupero Quattro, tre, due, uno Run Rimaniamo E giù Non ralento Il donato Questa sera Recupera Riposa, recupera Ti vedo rilassato Se lì così Perché mi vuoi vedere? Vuoi metterti vicino al Mauri? Facciamo stringere il Piero Nel Mauri Dai dai Non ralento Com'è? Si rallenta Si chiude E si cambia Ritmo Sessanta Le pedalate al minuto Ma La zona È sempre quella Bisogna chiudere Tanto 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 L'Omar L'Omar Non è soddisfatto Non so Dimmi Dimmi tutto È il Claudio Che non lavora? Lavora male Eh Lavora male Eh Immaginavo Claudio Non perché sei un nuotatore Non devi andare bene in bicicletta Chiudi È vero Chiudiamo ancora La frequenza cardiaca Sicuramente sarà scesa Noi dobbiamo chiudere Chiudere E chiudere ancora Per riportarla lì Chiudere Tutto bene? Adesso saliamo Vi faccio entrare in zona E poi cerchiamo Antonella Stai facendo fatica? La Laura ride Attenzione alla velocità Ci siamo? Zona 4 60 Vedanta del minuto Quattro 3 2 1 Su 3 Ma il Federico E' tornato C'era? Rimango 3 4 3 2 1 Giù Forza sui pedali Forza sui pedali Donato Donato Vedo solo un piede E non sempre Mi pare troppo brillante Si rallenti Con la chiusura però Facciamo un breve sondaggio Siete più vicino Siete più vicini Al 90 O al 79 A band A band per gli uomini che dicono bugie Le donne Non al 90 E' tornato Quindi possiamo chiudere ancora un briciolino Per alzarci Siete più vicini Siete più vicini Vero? Siete più vicini Vero? Quattro Ma stai facendo fatica? Lisa, da 1 a 10. Non sembra, ma... È così, va bene. Anna, da 1 a 10. 8, brava. Non perdo il ritmo. Mariangela, hai chiuso troppo, forse. Forse, vero? Quel poco che hai aperto tu, lo prende la Luisa Anna. Si chiama... Non apro! Mantengo! Anche Marco, poverino, ho chiuso troppo. L'unico uomo è aver chiuso tanto, così. Marco, se vuoi, puoi aprire un briciolo, eh. Eh, su! Oh! Dai, dai! Che siamo quasi alla fine! Non mi ciedo! Rimango qui! E' ancora qui! Manteniamo la frequenza cardiaca alta! Dimmi Omar! Mi guarda e ride! Dimmi! Sono 90! Ah! Mi pareva 90 poco! Mantengo fino alla fine! Non mi siedo! Sempre qui! Gente! Vedi a che ci siamo quasi ok giù tolgo un bel po' tolgo un bel po' asciugo il sudore bevo è stato un bel po' asciugo Benissimo Benissimo Ciao Alessandro Stefi Abbassi un goccio Aronne Mauri, tutto bene? Ivan, ti stai preparando per la cena? Anche Giulio si sta preparando per la cena? Sì Due volte, perché adesso sono preparata Ciao Maria No, sotto un'ora e mezza sì Ho fatto un'ora e venti quando non ero preparata Adesso fa freddo Pian piano si rallenta Avrei la giacca vento che mi impedisce i movimenti Tipo Omino Michelin Pian piano rallentiamo Fino a fermarci E resti al su Ancora su Tiro a tiro Scendo Apro le spalle Mani sul manovri Un piede sui pedali Gamba da antipiegata Dietro tesa Tallone della gamba dietro Verso terra Mezzo giro Mezzo giro Mezzo giro Cambio Mezzo giro Scendo Stacchi pedali Scendo Scendo Tallone al gluteo Ginocchio al petto Ciao Giulio Sì Scendo e cambio Risanna tutto bene Non è sudata però è rossa Scendo Respirone l'ultimo E fuori tutto giù Bravi Se hai ancora 5 minuti Rendi l'allenamento di indoor cycling Ancora più efficace con questi esercizi